Prima campanella oggi in Abruzzo per 173.000 studenti di ogni ordine grado che sono tornati sui banchi degli istituti scolastici delle quattro province. Come da tradizione sono arrivati gli auguri del presidente della regione Marco Marsilio che ha detto che studiare è anche un diritto, difendetelo e rivendicatelo, non fatelo solo per conseguire il titolo di studio, fatelo per voi stessi per diventare persone migliori. Lo studio richiede sacrificio perché la vita là fuori è sempre più difficile, ha detto il presidente della regione. Allenate il vostro coraggio e qui mi rivolgo a chi ne ha più bisogno, a chi varca per la prima volta il portone e a chi si appresta a percorrere l'ultimo tratto che lo separa dalla vita reale. A Pescara il sindaco Carlo Masci ha salutato gli studenti cittadini circa 12.000 recandosi al classico Gabriele D'Annunzio. Vengo qua a augurarvi un buon anno scolastico perché voi siete in una scuola prestigiosa, una scuola che sicuramente vi formerà nella maniera migliore e approfittate di questi anni perché saranno anni che vi segneranno per tutta la vita. Sicuramente alcuni di voi o molti di voi diventeranno la futura classe dirigente di questa città ed è questo certo perché è già successo e succederà ancora e di questo dovete ringraziare i vostri insegnanti, saranno loro che vi condurranno per mano in questo bellissimo percorso. A Chieti il sindaco Umberto Di Primio ha spiegato come la situazione nel giorno dell'avvio dell'anno scolastico sia tutto sommato tranquilla. La situazione è quella che anche i miei assessori hanno potuto verificare in questi giorni, abbiamo fatto una ricognizione su tutti gli immobili, particolari problemi non ve ne sono, c'è ovviamente la coincidenza di tanti cantieri che noi abbiamo aperto in questi anni con le scuole aperte ma non era possibile realizzare tutte le opere durante il periodo estivo, ce ne sono ancora altri da aprire, ci sono progettazioni che stiamo facendo, insomma l'obiettivo è quello di arrivare a avere delle scuole con una qualità anche ambientale altissima. Scuolabus e mensa, mensa non ci saranno problemi nel senso che la mensa è un'attività che abbiamo già programmato e quindi è già nelle corde anche economiche del Comune. Per quanto riguarda lo Scuolabus dobbiamo fare delle riflessioni anche in ragione di nuovi orientamenti della Corte dei Conti che ci dicono che il servizio di Scuolabus è un servizio che va coperto per l'intero da parte dell'utente. Questo stride un po' con le abitudini dei cittadini che abituati a viaggiare a 7 euro al mese ovviamente mal sopporterebbero l'idea di dover pagare tutto il contributo necessario. Adesso ci lavoriamo, ci stiamo lavorando. Io posso garantire che dall'inizio del mese di ottobre avremo tutte le questioni legate alla scuola o risolte o comunque abbiate ad una soluzione.